La differenza con le scarpe tue è questa, non hanno una bella presa purtroppo. Ok, ci sono riuscito, vai, stai più sulla destra Anderra, stai più a destra, ora sei in mezzo qua, da sto lato che eri più in mezzo. Grazie, guarda, non ci sono, stai più a destra, grazie a te, ma grazie a te, grazie a te, allora che quando corri ti vengo dietro, vai così, vai a vario parte seconda, cioè, ti sto dietro e ti attacco anche con la corda. No, 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 no. No, 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 no no certo ovvio certo a me felice arrivo è una portatura per il canto tu puoi stare anche a questa distanza io ti puoi stare vicino a Roma io devo guardare sia tre se non lo vede l'improvviso allora devo essere pronto sono le buche che non le segnali perché non hai le mani pronte se non ti sta davanti le buche devi segnare quelle che sono io sono impegnato nella guida adesso è agile no adesso è agile no occhio no la parte più difficile è il cambio io sono impegnato eh sì c'è la mano eh sì c'è la mano eh sì perché c'era la discesa come mai fa questo rumore non scorreggiare mi raccomando devo stringere il casco no no ma ci sta no vai più veloce vai il goccino piccolo tutti sticca tutti sticca per farare è lo so, lo so lo so, lo so si, si, questo è un bello quella bici mi piace questo il lavoro di fu non è bello si, non fai, ti stanno attaccati non vedi la buche davanti si, non fa l'ombra il lavoro di fare a me la schiena è quella a me la schiena è quella è escalato io ho visto io lo c'era adesso quanto stiamo andando 30 ah ok è un certo, no? è un certo, no? sono? grazie, l'altra mia vita grazie è un certo se c'è traffico è un casino a schivarle però perché non puoi allargare se c'è un'altra ma sei di nuovo qui? no questa è l'altra stiamo quasi a Casier a Roncal io conosco questa zona me la ricordo ci sono passati l'altro giorno e ho tornato dall'Areschiera perché c'hai la gamba? c'hai la gamba, vai 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 è una fottuta di brutta pensavo fosse caldo pensavo fosse picavo pensavo fosse picavo pensavo fosse picavo come se t'ho bisogno di giro esce la gamba è una fottuta di brutta è una fossa è una fottuta che non è in regola è una fossa Grazie a tutti.